Scalda i motori il Partito Democratico di Pulsano, inaugurato il suo nuovo cammino nella sede di Via Taranto 17. La cittadina, attualmente ancora commissariata, tornerà ad eleggere la nuova amministrazione comunale nel maggio 2023 ed il Partito Democratico si prepara alla sfida. Negli scorsi giorni c'è stata l'assemblea organizzativa che ha riaperto nella pratica quello che è il coordinamento, il coordinamento che ci porterà alla prossima tornata elettorale. Per tutti coloro che in questi ultimi anni si sono allontanati dal mondo della politica perché scoraggiati, soprattutto qui a Pulsano, l'invito è a partecipare. Dal suo punto di vista cosa rappresenta per Pulsano questo nuovo inizio, questo nuovo cammino? Rappresenta la voglia di riscatto di una comunità, di una comunità che ha sofferto per molti anni, che vive sulle soglie di un dissesto economico, mancando i servizi primari e quindi con il Partito Democratico e con la forza del Partito Democratico si può costruire quel cambiamento che i cittadini aspettano da molti anni.